Un saluto da Ponte News, giovedì 23 giugno a Montecolone è avvenuta l'iniziativa Mondoratori L'evento ha accolto una moltitudine di adolescenti e bimbi, inoltre hanno partecipato anche molti volontari, circa una trentina, che hanno voluto allietare l'evento grazie alla loro collaborazione A presenziare anche il Vescovo Guido Marini Sì, sì Nella giornata di giovedì 23 giugno, in occasione dei 150 anni dalla nascita di San Luigi Orione, Montecolone ha accolto, come da tradizione, Mondoratori Festa degli Oratori che abbraccia bambini e adolescenti, fermata purtroppo causa Covid per due anni Grande entusiasmo tra gli animatori Credo che sia molto bello trovarsi dopo così tanto tempo tutti insieme, siamo quasi un migliaio di ragazzi, è bello stare insieme, è bello sentirsi a casa, siamo tanti ragazzi che vanno la stessa cosa, che credono nello stesso Dio e che sono insieme E' bello, è bello vederci colorati, stare qua insieme e ci godiamo il resto della giornata Perfetto ragazzi Noi come oratorio siamo più o meno una trentina di ragazzi con molti animatori che seguono i ragazzi tutti i giorni, soprattutto nelle uscite come questa a Ponte Curone Oggi siamo accompagnati dal nostro don e da alcuni adulti che appunto ci seguono in tutte le uscite che facciamo all'infuori dell'oratorio A presenziare anche il Vescovo di Tortona, Guido Marini Mi sono sentito molto contento, certamente perché è sempre bello venire a Ponte Curone e venirci in questo anniversario ancora di più Ma poi in modo particolare perché oggi c'è questa manifestazione Mondo Oratori che finalmente riprende in una dimensione bella, allargata, rispetto ad anni in cui è stato impossibile E incontrarsi con i ragazzi, i bambini è sempre motivo di grande gioia per tutti, ma davvero in particolare per il Vescovo quando incontra i suoi ragazzi, i suoi bambini Un evento che pone al centro i giovani, seguendo l'esempio di San Luis Giorione Sono il futuro della società e della Chiesa, ma anche il presente in realtà della società e della Chiesa E quello che io desidero trasmettere di più è ciò che rientra nel mio compito e nel mio desiderio di cuore di pastore E cioè che possano incontrare il Signore e proprio a motivo di questo incontro con il Signore avere una vita davvero bella, sana, piena, ricca di significato Ecco questo è il mio desiderio più grande che in ogni modo cerco di realizzare ogni volta che incontro i ragazzi L'evento è stato organizzato dalla parrocchia e dalla pastorale giovanile diocesana con la collaborazione di associazioni di Ponte Curone Presente la polizia locale di Ponte Curone, Croce Rossa Italiana di Tortona Per ora è tutto, vogliamo ricordarvi una nuova puntata di Ponte News, Ponte in diretta L'iniziativa, una trasmissione tutt'inevita e dedicata a molte tematiche, specie ambientali, anche di cultura, eventi, spettacolo Noi andremo ad intervistare con molti ospiti Le puntate verranno trasmesse il sabato in diretta ovviamente Questo sabato non ci sarà, ma dal prossimo sabato andremo nuovamente in diretta con ospiti tutti speciali Vi aspettiamo, grazie per essere stati con noi Buona continuazione A presto Grazie